Questa è la storia di un libro che si è presentato sulla mia strada in numerevoli volte e che avevo tra virgolette scansato fino ad adesso invece poi alla fine l'ultimo passaggio ho fatto decidere che lo volevo comprare e volevo leggerlo. Il primo momento è stato che l'ho letto il gruppo di lettura della libreria e l'easbook di cui vi parlo di tanto in tanto. Il secondo passaggio è stato che io non sono riuscita a leggerlo perché non la facevo in tempo, avevo già troppe letture e quindi l'hanno letto loro e io non mi sono aggiunta. Il secondo passaggio è stato che sono andata al reading collettivo di questo libro a Book Pride e nonostante piangessimo tutte alla fine ho deciso di non prenderlo. Il terzo passaggio è che questo libro è contenuto nella scatola di Pensavi Fossi Una di Romanzi.it e ad un certo punto mi era arrivato uno sconto incredibile per comprare quella scatola ma ho deciso di non comprarla. Poi alla fine questo libro ha vinto il Pulitzer, io davanti al Pulitzer ho ceduto, ho comprato L'invincibile estate di Liliana. E quando ho saputo che lo avrebbero letto insieme nel giro di breve anche Teresa B. Buccalula e Miria di Book Hunter che saluto e che ringrazio per la compagnia ho chiesto di unirmi e quindi comprato e letto subito. E quindi ho fatto in modo di straziarmi il cuore anch'io con questa storia terribile. La storia sicuramente la conoscete in tanti perché se ne è parlato parecchio. L'invincibile estate di Liliana è la storia del femminicidio e della sorella di Cristina Rivera Garza. Quindi l'autrice ci racconta la storia di sua sorella Liliana, di che tipo di persona fosse e di come è finita vittima del suo ex fidanzato. Questo è un memoir che segue un andamento, non potrei dire insolito perché ogni memoir ha l'andamento suo che gli è più proprio ma ha un andamento tutto suo ed è costellato da tutta una serie di contenuti che potrebbero non azzeccare l'uno con l'altro ma l'autrice riesce a far stare insieme. L'autrice appunto mette insieme ricordi personali del suo rapporto con la sorella, suoi appunto riflessioni personali, appunti e racconti di come ha cercato di ottenere giustizia nei confronti di questo omicidio. Racconti degli amici di Liliana che la descrivono per quello che era e che aiutano il lettore a attraversare gli anni dell'università perché Liliana ha studiato a Città del Messico architettura e quindi noi vediamo con le storie dei suoi amici dal primo giorno fino a poi appunto il giorno in cui è stata assassinata ma non con i racconti di quello che succedeva ma con i racconti degli amici delle persone che l'ha frequentata nel corso dei diversi mesi che l'hanno conosciuta, che sono entrati in contatto con lei, che hanno fatto dei lavori insieme, che leggevano insieme, andavano al cinema, andavano in vacanza insieme e anche invece scritti personali di Liliana che era una grande grafomane e quindi scriveva tante lettere agli amici, ai cugini, ai parenti, appunti suoi personali, teneva un diario e quindi l'autrice riesce a inserire tutto insieme anche con dei resoconti delle lotte contro il femminicidio dei movimenti femministi in Messico il femminicidio in Messico è un problema gigantesco più che qui in Italia e nonostante loro abbiano inserito il crimine di femminicidio nel loro codice penale l'autrice ci racconta appunto di tutta una serie di passi, di ragionamenti che sono stati fatti dai movimenti contro la violenza di genere ma insieme ci mescola la sua storia personale e non ci racconta tanto del femminicidio della sorella anzi riesce con una grande delicatezza soltanto a dare gli accenni minimo indispensabili e però quello che fa l'autrice è presentarci Liliana, la persona che era, attraverso i suoi scritti personali e i ricordi degli amici e i propri ricordi, le sofferenze che lei e la sua famiglia provano dal giorno in cui Liliana è venuta a mancare creando un vuoto incolmabile nelle loro vite e di come le loro vite da quel momento in poi siano state segnate dal fatto che la sorella appunto è stata assassinata e che il colpevole è riuscito a farla franca perché poi il colpevole non si troverà mai, nel senso che loro sanno benissimo chi è ma la polizia non riesce a catturarlo e quindi non ci sarà mai un processo e questa è una storia comune a tanti altri delitti di femminicidio perché spesso il colpevole riesce a farla franca qui siamo comunque negli anni 90, io voglio sperare che adesso anche in Messico la situazione sia migliorata quantomeno da un punto di vista giudiziario e anche della mentalità popolare e quindi che il femminicidio venga visto per quello che è, cioè un crimine di genere ma soprattutto che ci sia anche molta più consapevolezza all'interno della popolazione direi che anche in Italia le cose sono molto cambiate per fortuna dagli anni 90 anche se c'è ancora tanta strada da fare quindi qui in questo memoir che è fatto per spezzare il cuore del lettore e non è un caso se piangevamo tutte quando c'è stato un reading collettivo il fulcro di questa storia è chi era Liliana e perché quest'invincibile estate ha portato alla sua fine l'autrice lo lascia intendere tra le righe, lo dice soltanto poche volte che di solito una donna finisce vittima del femminicidio quando si sta definitivamente staccando dal suo carnefice quindi quando quest'uomo prende coscienza del fatto che la donna in questione non è più una sua proprietà e quindi non basta fare la voce grossa o diventare violenti questa donna è uscita dal suo raggio d'azione, ha preso coraggio non è più spaventata e quindi non è più sottomessa ma ha scelto di fare una vita propria con altre persone escludendo totalmente questo carnefice dalla sua vita e liberandosene quindi in questo momento il carnefice prende coscienza del fatto che le cose siano definitivamente cambiate che non ha più il potere e quindi dà una ultima dimostrazione del proprio potere togliendo la vita alla propria vittima, vittima che non è la vittima di un momento che così all'improvviso arriva è una vittima che da mesi, anni subiva violenze, angherie, psicologiche e anche di violenze fisiche perché la storia di Liliana non è diversa da quella di tutte le altre donne anche se lei era una donna, una ragazza forte, molto corteggiata, molto apprezzata a cui tantissimi volevano bene lei era una ragazza che riusciva a fare amicizia con tantissime persone aperta, estroversa, generosa che spesso dava asilo ai suoi compagni di università li invitava a dormire da lei se dovevano tornare troppo lontani li ospitava tutti a mangiare a casa sua era una persona allegra, solare, brillante e di grande talento per quanto riguarda il percorso di studi che aveva scelto tantissimi suoi amici sono concordi nel dire che era portatissima per il percorso di studi che sarebbe stata un ottimo architetto proprio perché appunto aveva questo stesso spirito di risoluzione dei problemi che vedeva le cose in maniera diversa e la stessa cosa era nei rapporti umani in più appunto come vi dicevo era una grande appassionata di scrittura e quindi troviamo nella storia qui proprio il suo punto di vista la sua voce lei che racconta a se stessa alle persone a cui scriveva quindi le cugine, le amiche quando era lontana in vacanza la vediamo proprio emergere la personalità di Liliana questa non è una storia di un femminicidio è la storia di chi era Liliana di questa sua invincibile estate che è una citazione tratta da Camus che fa sì che lei appunto nonostante l'inverno dentro di sé aveva un'invincibile estate quell'invincibile estate che è in cui lei è riuscita a fare questo scatto a liberarsi da questo suo carnefice una volta per tutte e poi questa cosa lui non gliel'ha perdonata se possiamo dirlo in questo modo e quindi le ha tolto la vita è una mescolanza di tante cose e quindi davvero bisogna mettersi davanti a questo libro con uno spirito di aspettativa pari a zero che non è quello che avevo io ma in qualche modo sono riuscita a ricredermi e affrontarlo come se non si sapesse proprio niente uno prende questo libro dallo scaffale adesso io ve lo sto raccontando ma in realtà la cosa migliore sarebbe aprirlo e cominciare a leggerlo dalla pagina 1 senza avere nessuna aspettativa perché vi dico che io avevo delle aspettative e anche delle remore nei confronti di questo libro come vi dicevo qui da un certo punto in poi ci sono gli amici che cominciano a raccontare qual era il loro rapporto con Liliana qui vedrete che ci sono dei paragrafetti con il nome della persona e poi appunto delle piccole descrizioni questa è lei dei racconti, dei loro rapporti di quello che succedeva tra di loro magari un ricordo, un cameo di questa storia ecco, in questi camei che io avevo ascoltato nel reading collettivo avevo proprio l'impressione che ci fosse un po' la beatificazione di Liliana quindi Liliana che emergeva come questa persona straordinaria che non meritasse di morire ovviamente era un'idea che era emersa da una lettura parziale da una fruizione parziale di questo memoir perché io appunto avevo sentito soltanto le parti che erano state lette in pubblico e la mia reazione era stata ma non è che lei non meritava di morire perché era una persona straordinaria nessuna vittima si merita di morire leggendo più avanti poi in realtà ho capito che questo in realtà nasce più forse quasi da un bisogno dell'autrice di ricordare sua sorella di colmare questo vuoto in realtà incolmabile di una persona che non c'è più ormai da più di 30 anni che avrebbe potuto avere una vita piena ricca di conoscenze, di amicizie di soddisfazioni lavorative magari di altre difficoltà ma che sarebbe riuscita a diventare una persona a tutto tondo e quindi l'autrice ha sentito il bisogno in un certo qual modo di tenersi vicina alla sorella e di scrivere questo libro forse quasi più per sé raccogliendo ricordi appunto appunti suoi personali, ricordi suoi, ricordi degli amici scritti di Liliana che lei probabilmente per tanto tempo non è riuscita ad affrontare per il dolore troppo forte dopodiché con queste miscellanea di materiali è riuscita a mettere insieme quello che è venuto fuori con un formato omogeneo e che riesce a stare insieme con la dignità di un libro che si può leggere dall'inizio alla fine e che non stona mai e allora può diventare qualcosa di cui l'autrice si può staccare e può diventare di dominio pubblico ma sempre con molto pudore senza andare a recriminare sul colpevole ci sono ovviamente dei momenti di rabbia forte perché la giustizia non ha potuto seguire il suo corso e perché in fondo forse non c'è stato abbastanza interesse in generale verso la situazione perché lei si sente in colpa perché non aveva colto la situazione della sorella non era riuscita a proteggerla e tutta una serie di situazioni sensazioni, sentimenti che accomunano lei, i suoi genitori le persone che stavano intorno a lei e Liliana e probabilmente accomunano tutte le famiglie in cui una donna è stata assassinata dal suo compagno o ex compagno o aspirante tale quindi lei riesce a rendere universale questa sua sensazione e a renderla una qualcosa che non era solo più per sé ma poteva diventare qualcosa per tutti perciò non è come potrei dirvi un libro di true crime in cui c'è l'indagine e c'è il racconto di cosa è successo prima e cosa è successo dopo c'è tutto questo però non è raccontato con morbosità devo dire che tra l'altro una cosa che mi è piaciuta molto e ho apprezzato e che nonostante siamo passati più di 30 anni non darei proprio per scontata qui ci sono dei brani degli articoli di giornale scritte da un giornalista che si è incaricato di seguire il caso di Liliana l'aspetto che ho apprezzato molto è la voce pacata del giornalista nel raccontare questa storia e soprattutto nel concentrarsi sulle indagini della polizia nei confronti del colpevole quindi le ricerche la scelta ormai l'individuazione del colpevole e appunto quello che viene fatto per cercare di catturarlo senza fossilizzarsi sulla vittima senza mai parlarne in toni romanzeschi parla sempre di una studentessa assassinata ma non va a scavare nel torbido non parla di un grande amore respinto tutte queste strategie retoriche che in Italia vanno per la maggiore non so come fosse nel Messico degli anni 90 ma che tendono a raccontare questa storia come il culmine di un amore troppo forte e invece no la giornalista che qui ha raccontato del femminicidio di Liliana non ha scelto quel registro ed è probabilmente per questo che Cristina Rivera Garza l'ha riportato all'interno del suo testo se invece avesse scelto quell'altra strada così sensazionalistica all'interno non avrebbe trovato spazio perché appunto sono quelle voci giornalistiche di sensazione che fanno pensare che questa sia una cosa che non ci riguarda che sia una storia da romanzo quando in realtà questa cosa potrebbe succedere a qualcuno che ci è molto vicino e anche noi non ce ne stiamo accorgendo come vi dicevo appunto qui nel libro ci sono estratti di diversi provenienze c'è ovviamente la parte in cui l'autrice parla di sé oppure raccoglie le testimonianze degli amici di Liliana che vi ho mostrato ci sono gli scritti di Liliana che sono impaginati in questo modo con questo carattere che è stato ricreato da un suo caro amico che è stato anche un suo fidanzato di Liliana che è diventato un grafico di una certa fama e che quindi con gli scritti di Liliana ha cercato di ricreare un font che assomigliasse il più possibile alla calligrafia ma poi appunto vediamo anche avete visto delle foto questi sono come gli articoli di giornale io vi racconto le cose perché ovviamente questo non è un libro che si legge per vedere come va a finire tra l'altro la storia la sappiamo fin dall'inizio da quando lei decide l'autrice di cercare di riaprire il caso e cercare di trovare il fascicolo della sorella che diventa introvabile perché appunto gli archivi erano quello che erano ci sono dei punti in corsivo vediamo se ne trovo qualcuno ci sono appunto delle pagine in corsivo quindi è una proprio miscellanea di vari contenuti c'è anche la piantina della casa dove abitava Liliana avete visto da come vi ho mostrato foto, immagini, caratteri diversi che è stato fatto un grande lavoro grafico per la ricostruzione di questo libro alla fine di tutto al di là delle emozioni personali è un libro che mi sento di consigliare anche se tratta il femminicidio da una prospettiva diciamo fuori da quello che mi sarei aspettata perché non è un libro di denuncia è più un libro che racconta di una relazione umana perché poi alla fine quello che dobbiamo ricordarci è che chi perde la vita sono sempre delle persone delle persone che possono essere i nostri vicini le nostre vicine di casa i nostri colleghi, le nostre sorelle le nostre amiche e quindi persone a cui noi teniamo e non sono dei racconti sul giornale o qualche riga in cronaca per cui questo secondo me è stato fatto un ottimo lavoro credo che alla fine nonostante le mie reticenze il Pulitzer per il Memoir sia meritato non so come fossero gli altri libri che erano finiti in finale forse non lo saprò mai però tutto sommato è un libro che vi consiglio che io poi ringrazio anche ancora Teresa e Miria per averlo letto insieme a me non vedo l'ora di andare a vedere i loro video che trovate giù in infobox ovviamente perché appunto oggi escono insieme anche i loro resoconti, le loro impressioni su questo testo un testo che come vi dicevo vi consiglio nonostante sia fonte di enorme sofferenza però ne vale la pena con questo chiudo perché appunto non vedo l'ora di andare a vedere i video di Teresa e Miria noi ci rivediamo lunedì prossimo per parlare ancora di libri e nel frattempo buona lettura a tutti